Dopo 60 anni di industria petrolifera, Gela volta pagina. L'Eni infatti abbandona la raffinazione del greggio e si avverrà a produrre biocarburanti. Ieri pomeriggio al Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto il testo limato fino all'ultimo da tutte le parti interessate dalla lunga vertenza. La regione siciliana con il presidente Rosario Crocetta, il sindaco di Gela Angelo Fasulo, L'Eni con Salvatore Sardo ed il presidente dell'arfineria di Gela Claudio Zacchigna ed ancora con l'industria Sicilia le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali dei chimici e le rappresentanze sindacali unitarie. Il piano prevede nuove ed importanti iniziative industriali volte a sviluppare il sottore upstream sul territorio siciliano e a rendere le attività di Eni sempre più sostenibili a livello ambientale facendo leva su importanti investimenti, sull'innovazione tecnologica e sulle competenze delle risorse del cane a sei zampe. Gli accordi, dice l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, sono la conferma che le sinergie e lo spirito costruttivo fra tutti possono determinare iniziative innovative e positive in grado di coniugare le esigenze dell'impresa e delle comunità che vivono nei territori. Il sì alla riconversione verde della raffineria Eni di Gela porta con sé la garanzia del mantenimento di tutti i posti di lavoro compresi quelli dell'indotto e l'impegno all'utilizzo del sito giolese per l'insediamento di una bioraffineria nonché come base logistica per l'on e l'offshore e la nascita di un nuovo centro di alto livello per la sicurezza nel settore dei biocarburanti. E quanto si legge in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, il ministro Federico Guidi nell'esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto ha ringraziato aziende e sindacati per la responsabilità dimostrata nella gestione di questa difficile vertenza che si è conclusa con un investimento strategico per la Sicilia, per il sistema energetico nazionale e per la difesa dei livelli occupazionali.